A Cosenza dal prossimo primo novembre ritornano i venerdì del teatro contemporaneo firmato More, il progetto ideato da Scena Verticale in partenariato con il MIBAT e il Comune di Cosenza. Questa è una rassegna estremamente consolidata nella città di Cosenza, il progetto More che abbraccia il teatro contemporaneo, una città che ha lavorato tanto sul contemporaneo e quindi questa è la faccia teatrale di questa azione che accompagna un po' il progetto culturale della città, legandola ai box art, legandola al teatro di sperimentazione. È una partecipazione attraverso le strutture che iniziano ad essere il luogo di residenzialità, il luogo della teatralità, quindi è un uso consapevole e al tempo stesso condiviso con progetti culturali importanti che danno appunto importanza al luogo dove si svolge la rassegna appunto. E quest'anno tra altre cose si riparte tra il teatro Morelli dove siamo adesso e anche il cinema teatro a Roldotieri dove si terranno alcune delle rappresentazioni. La nuova rassegna del More si chiama Focus Residenze e sarà una programmazione che presenterà per la prima volta a Cosenza tre produzioni frutto del progetto internazionale Europe Connection. È un lavoro che Scena Verticale porta avanti da un po', provando a mettere in comunicazione, in collaborazione la drammaturgia straniera con le compagnie calabresi, proprio per provare a rinnovare il linguaggio scenico anche nei nostri territori. Per cui avremo quattro appuntamenti, chiudiamo con il nostro spettacolo col debutto in Calabria di Saverio Laruina con il nuovo spettacolo Maria e Salè che debutta invece in prima nazionale a Roma Europa Festival settimana prossima. E poi avremo queste tre compagnie calabresi che si sono confrontate con tre autori stranieri, viventi, sono stati in Calabria insieme a noi, insieme a loro e hanno fatto questi tre spettacoli. Tutti e tre raccontano la società odierna.